Noi ti daremo una stanza, nel palazzo c'è posto, sarai, sarai, venerata a ogni costo. Noi ti daremo una stanza, nel palazzo c'è posto, sarai, sarai, venerata a ogni costo, lo sappiamo bene che tu non sei lei, tu ci aiuti a ricordarla e non riusciamo a non amarla. Ma riuscirai a gestirla? Non è semplice andare d'accordo con tutte e tre. Io qui so già che adesso il cuore può di nuovo provare amore, ti venereremo. Io qui so già che adesso nel palazzo c'è posto, il cuore può di nuovo provare amore. Venerata a ogni costo, so che voi non siete lei, io ero sua, ma mi aiutate a ricordarla e non riesco a non amarla. Io qui so già che adesso il cuore può di nuovo provare amore. Grazie a tutti! Grazie a tutti.